Si dividevano militarmente le varie zone della città senza risparmiarne nessuna, dal Lungomare Colombo alla zona orientale tra Via Verdi, San Leonardo, Via Allende fino alla discoteca Sea Garden di Via Clark e persino in una delle poche aree dove la sosta non si paga, come quella a ridosso del Forte Lacarnale. Duro colpo alla gang dei parcheggiatori abusivi di Salerno. Sono otto le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale su disposizione del GIP dopo le indagini coordinate dalla procura. Le accuse sono di estorsione a danno degli automobilisti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno ricostruito decine di episodi con l'indebita riscossione di denaro per consentire il parcheggio. Una pratica talmente diffusa e consolidata tanto che gli abusivi si erano divisi le reciproche zone di influenza. L'operazione è stata accolta con particolare soddisfazione dall'amministrazione comunale di Salerno che a più riprese aveva sollecitato una risposta delle forze dell'ordine per contrastare quella che il sindaco Vincenzo Napoli non ha esitato a definire una vera e propria piaga. Un momento assolutamente favorevole e di gratitudine per le forze dell'ordine che fanno il loro dovere fino in fondo contribuendo al decoro urbano della città. Noi fortunatamente abbiamo degli eccellenti rapporti con la Questura e con la Prefettura e con i vertici delle forze preposte al tenimento della tranquillità pubblica, delle guide pubbliche e della legalità. Un grazie sincero alle forze dell'ordine e sperando che questa piaga dell'abusivismo dei parcheggiatori abbia un duro e stretto giro di vite e finalmente vada finendo.